Siamo ad Expodental 2011 con il dottor Edoardo Botteon di Edarredo. Dottor Botteon, ieri si è tenuta una conferenza stampa di presentazione del gruppo MAU. Ci può parlare di questa nuova iniziativa messa in cantiere da un gruppo di mobilieri del settore odontoiatrico? Ben volentieri, MAU è l'acronimo di Mobilieri Associati Uniti e nasce da un'esigenza comune di una parte di produttori di mobili del settore odontoiatrico, Associati Uniti. Che cos'è MAU? Come dicevo è Mobilieri Associati Uniti. Quindi abbiamo deciso di unire le nostre forze per degli obiettivi comuni che sono quelli di presentare e portare alla conoscenza di tutto il pubblico, dei clienti e dei distributori, portare a conoscenza delle nostre competenze, della professionalità delle nostre aziende, delle tecnologie all'interno delle aziende, e delle tecnologie che andiamo ad applicare ai nostri prodotti, nello specifico i mobili per lo studio odontoiatrico e per il laboratorio odontotecnico. Il motivo di questa decisione è appunto perché intanto MAU è formato da otto aziende, le quali mediamente sono state fondate circa 30 anni fa, sono specializzate nella produzione di mobili ed arredamenti per il settore odontoiatrico e odontotecnico, in particolare specializzati nel mobile in metallo, perché in metallo? Perché naturalmente il mobile in metallo si adegua alle esigenze dello studio odontoiatrico e del laboratorio odontotecnico, nonché delle sale di sterilizzazione, per le caratteristiche insite che sono contenute nel metallo, non assorbe gli odori, è resistente, dà l'idea di solidità e anche è molto più adeguato all'impiego richiesto. La totalità delle aziende si occupa anche dei mercati internazionali e la percentuale globale delle esportazioni dei soci e degli associati MAU tocca circa il 70%. Questo significa che abbiamo una fortissima presenza all'estero, proprio dettata dal fatto della nostra forte specializzazione nel prodotto. Oltretutto, oltre alla qualità e a curare i dettagli qualitativi e i dettagli ergonomici, siamo riconosciuti universalmente, naturalmente per nostra fortuna e capacità, per la grande qualità del design e della cura appunto dei dettagli. Oggi il design è ritenuto uno dei fattori fondamentali per distinguerci e per farci premiare in tutti i mercati internazionali. Ieri appunto abbiamo avuto la presentazione di questo gruppo, dove l'intendimento è proprio di portare al pubblico la nostra competenza nel presentare l'ambiente odontoiatrico sotto una nuova luce e sotto una nuova veste, visto anche i cambiamenti che stanno avvenendo nel mercato, dove appunto l'impatto dell'immagine nei confronti del paziente è molto forte ed è molto importante e crediamo che i prodotti del gruppo MAU possano supportare ed essere all'altezza delle richieste attuali e anche future. Sicuramente sentirete ancora parlare del gruppo MAU. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.